In terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, vanno verso l'Adriatico selvaggio che verde come i pascoli dei monti. Ha venuto profondamente ai fonti alpestri che sta portando la natia rimanga nei cuori esuli a conforto che lungo illuba la loro sede. C'è una grande empatia e una grande confidenza con il maestro Valori, per cui le poesie sono state scelte più da lui che non dalla mia esperienza, a parte che è un territorio talmente vasto. La cosa che sorprenderà nello spettacolo è la corrispondenza tra quelle che sono le atmosfere incalzanti o decrescenti delle poesie di D'Annunzio con le canzoni di riferimento. Quella è stata una di quelle cose che fa considerare questo spettacolo, il piacere di essere D'Annunzio, come uno spettacolo necessario. È uno dei pochi che fa del verso un incredibile riverso di magico incantamento.